Insomma, io non credo che il cinema finirà, ecco. Può darsi che, può darsi come a volte si dice, che finirà il fenomeno sala cinematografica, cioè che la gente invece di andare nella sala lo vedrà a casa su una parete, su un grande schermo, vabbè, ma per noi il mestiere non cambia, voglio dire, noi dobbiamo recitare. Proiettateci dove volete, ma lasciateci recitare, ecco. E questo non accadrà per forza, no? Se non ci sono sti bubazzetti lì che si mono, dove va la gente? Meglio certo è nella sala, perché stare assieme è più bello, però se il mondo muta per motivi che non conosco bene e diventa un'esigenza quella di non uscire più fuori, ma vederla a casa, vabbè, vediamola a casa, purché non sia Capitol, ecco, capito?